Prime partite ufficiali della stagione 2023-2024 anche tra i dilettanti nel weekend. Al via, infatti, la Coppa Italia della Serie D e dell'eccellenza. Per quanto riguarda la D è in programma il turno preliminare in partita unica, che interesserà solo una delle nostre squadre, l'RG Ticino che ospiterà, domenica alle 16, l'Alba Calcio in una sfida tra neopromosse nella categoria. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.